Siamo alla vigilia dell'udienza preliminare con la quale il GIP di Teramo dovrà decidere se mandare a processo per illeciti nella gestione del sistema acquifero del Gran Sasso i dieci indagati tra i vertici della Ruzzoreti, i laboratori di fisica nucleare e strada dei parchi. A sorpresa, il comune di Isola del Gran Sasso, in primis il comune di Teramo e la provincia di Teramo, hanno deciso di costituirsi parte civile nel procedimento per inquinamento ambientale. Una chiara presa di distanza delle istituzioni nei confronti degli enti sotto accusa, tra i quali proprio la società acquedottistica Teramana Ruzzoreti. Perché questa decisione di costituirsi parte civile? L'Isola del Gran Sasso con il problema dell'acqua ci si è sempre identificato. L'Isola del Gran Sasso è il comune che dà oltre l'80% di acqua a tutto il territorio teramano. Io dico sempre il problema che c'è solo il dubbio che l'acqua possa essere inquinata, per noi è un danno di immagine veramente enorme. Noi dobbiamo risollevarci un po', sviluppare per quanto riguarda le nostre risorse, che era l'acqua, le bellezze naturali. Se oggi l'acqua è messa in discussione in qualche modo perché c'è il dubbio che qualcuno o qualcosa può inquinarla, per noi è veramente un grosso danno e per me è inaccettabile. Io uscire per il comune di Isola e sentire qualcuno che mi chiede se può bere o meno l'acqua è una domanda che non voglio più sentire. È un'azione forte contro qualcuno? No, è un'azione per il territorio, per i cittadini teramani a tutela del bene più prezioso che abbiamo, l'acqua, quindi il diritto alla salute, il diritto all'ambiente del nostro territorio, anche all'immagine di un territorio che purtroppo subisce da troppo tempo questa vicenda che è irrisolta. Si tratta di un'iniziativa correttamente avviata dal comune di Isola del Gran Sasso, che comunque è il comune colpito anche dal punto di vista proprio urbanistico-territoriale da questa vicenda, geografico, e ovviamente che vede la presenza anche in squadra, insieme, del comune capologo di provincia, il nostro e della provincia di Teramo. È un'azione importante, significativa, che non ha solo un rilievo giuridico, la Costituzione di parte civile all'interno del processo penale, che seguirà ovviamente il suo percorso, ma vuole significare che noi ci siamo, ci vogliamo essere, ci dobbiamo essere. È finito il tempo di chi magari viene deresponsabilizzato o nasconde la testa sotto terra, insomma, dobbiamo assolutamente assumerci la responsabilità delle nostre azioni e questo è un importante atto di assunzione di responsabilità, come ho detto, insomma, un atto di coraggio sotto un certo aspetto, ma sotto altri aspetti un atto dovuto, perché lo dobbiamo ai nostri cittadini. In sintesi, per i sindaci e il presidente della provincia di Teramo, chi ha sbagliato dovrà pagare e risarcire il territorio. Tuttavia, la Costituzione, come parte civile nel procedimento giudiziario per inquinamento ambientale, scava oggi un solco profondo tra istituzioni e enti coinvolti in questa inchiesta della Procura. Una distanza difficilmente recuperabile, soprattutto con la Ruzzoreti, anche se non ci sarà alcun rinvio a giudizio.